Siamo sicuramente molto entusiasti perché sono emersi dei dati importanti che ci hanno fatto capire che sono veramente molti i punti su cui noi come associazione dobbiamo puntare e l'entusiasmo che ho già raccolto al termine del convegno ci ha dato la forza davvero di continuare su questa strada e che le imprese sono davvero pronte e recettive a mettersi in gioco per affrontare al meglio quello che sarà lo scenario futuro e le problematiche che sappiamo dovranno essere affrontate.